Poche ore di pioggia, scrosciante, sono bastate per rimettere in allarme il territorio. A pianezza alcune vie sono state completamente allagate, trasformate in fiumi in piena. Stesso copione, amarostica, ma se nella parte di pianura l'allarme è rientrato in breve, con l'acqua che è fluita negli scoli liberando le strade, in collina le ulteriori piogge stanno pesando su un'area dove è massima la tensione frane. A oggi se ne contano 45, solo a Crosara sono 6 quelle che gravano sull'abitato, tanto che giovedì sera il sindaco Mozzo, che già aveva chiuso le scuole, ha deciso per l'evacuazione di 4 famiglie, 12 persone. Stiamo cercando di lavorare per garantire la sicurezza che è la nostra priorità e poi ho deciso di chiudere anche le scuole. Una cosa che oggi si è dimostrata fondamentale, in quanto abbiamo avuto numerosi allagamenti nella zona di pianura, Il Longhella si è alzato in modo importante e stiamo facendo le verifiche degli argini in questo momento. Abbiamo dovuto chiudere anche perché il tombotto di scarico passa sotto la provinciale, quella alle mie spalle, è la strada provinciale che collega Marosti, che è di fatto il basso della pianura all'alto piano di Asiago, una via prioritaria che ha un alto flusso di traffico. Abbiamo chiesto aiuto anche al Comune di Lusiana Conco che ha già predisposto anche in area di competenza tutte quelle che sono le segnaletiche opportune proprio per cercare di creare il meno disagio possibile a residenti e anche persone che lavorano in alto piano che si devono spostare a valle. Attenzione massima, verifiche continue, ma la preoccupazione anche del primo cittadino è tanta vista l'entità di questi fenomeni che stanno attanagliando il territorio negli ultimi tempi. Faccio fatica a dire sotto controllo in questi giorni perché appena stiamo uscendo dall'emergenza se ne presentano di nuove, quindi non dico più sotto controllo in questo momento.